Bella, chi è qua? Oh comunque è proprio bella sta camera Pure il miele ci hanno regalato Ah vedi, grazie amore per questa sorpresa Ma quale sorpresa? Hai prenotato tu? Ci voleva proprio un sussettino stasera Sussettino? 80 roll e 30 ringhieri sussettino Eh vabbè ma è pesce E lo so che è pesce, è tutto il pesce del Mediterraneo Ah a proposito Che tu lo sei messo pure nella borsa No, il biscottino della fortuna Pure i biscotti ti sei riportata Quale vuoi? E che ne so, dammi questo Allora vediamo che ci dice Ma non lo legge il biglietto? Quale biglietto? Dentro c'è il biglietto Ah ecco che era Mi sembrava strano Ah una sorpresa sta per bussare alla tua porta A quest'ora Ridi, ridi, occhio che me si portano via Ma fammi capire quanto sono attendibili questi biglietti Questi ci prendono sempre, ti ricordi pure l'altra volta? E allora stavolta è fatta Perché? E perché c'ho scritto la tua libertà è dietro la porta E beh? E beh, se prima la porta è attenta e si portano via Io sono libero Ma vorrei che ci sta fuori la porta Lo dico io che come se dorme a casa Poi dici perché uno un po' uscì Ma che è tufo Buonasera 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 Buonasera